Non appena avrò portato mia figlia a scuola... Mi scusi, sei ancora in pijama? E se andassi così? Non fare tardi come al solito. Alle tre in punto mi troverai qui. Ciao Billy! Cosa fai? Tutta sola? Che enorme piacere conoscerti. Come sapete il mio nome? Beh, è magia mia piccola amica. Pensate che creda ancora alle favole? C'è un castello! Mi chiamo Lord Domino. Ho vissuto in questo castello per secoli come un escluso. Sarai una nostra ospite. Fino a quando? Un paio di secoli. Ho trovato la ragazzina perfetta. La sua invenzione diffonerà negatività nel mondo sfruttando la vostra paura. Wow, sei vivo! È incredibile, Johnny, sei tu! Devi solo trovare gli indizi all'interno del cartone. Vi può fin? Chissà se funziona. Se soltanto uno di voi fuggirà dal castello, la sua invenzione non funzionerà. In ognuno di noi c'è un pizzico di magia. Non sempre va come vogliamo, ma c'è sempre un motivo per sperare. E' un po' che... Ho trovato la pièce! Ma c'è un po' che sta cercando. È un po' che худo di tutto per aver a många oc Tail,